Musica Brutto incidente con la moto questo pomeriggio in località Stop ed Arca alle porte di Arezzo. Nel violento impatto è rimasto ferito gravemente un trentenne a retino. È successo pochi minuti prima delle 19. Il centauro in sella alla propria moto è andato a sbattere contro alcune macchine, probabilmente dopo aver perso il controllo del mezzo. Il giovane è stato trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo, è stato poi attivato l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento all'ospedale delle Scotte. Il trentenne ha riportato fratture multiple ed un trauma cranico, è stato giudicato in codice rosso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia municipale per i rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.